La riunione di Giovema Inta è stata una fraccia, abbiamo una domanda, specialmente per la nostra fraccia, per aver guardato la fraccia di Mas, conjuntamente con il leader di fraccia di Acción 21, abbiamo chiesto di una riunione che è tenendo una situazione facciosa con la nostra sindacca, toccando il ricordo di 60 milioni, e anche la situazione e la preoccupazione del fisioterapista. Abbiamo un sinfine di domande, abbiamo chiesto di remarcare che è un po' affaccio e è un po' di sabore amargo, ora come parlamentario abbiamo chiesto di una peticione che è un po' di google, o che è un po' di buscare online. Abbiamo chiesto di un parlamentario che si tratta di un po' di sabore, che si tratta di un po' di sabore e che si tratta di un po' di sabore e che si tratta di un po' di sabore. E' un po' di sabore e che si tratta di un po' di sabore. Alla prossima ti pregunto come a Hassie, la Hohonduna come contesta, come si tratta di un po' di sabore e che si tratta di un po' di sabore e che si tratta di un po' di sabore. Alla prossima ti pregunto come si tratta di un po' di sabore e che si tratta di un po' di sabore. Alla prossima ti pregunto come si tratta di un po' di sabore e che si tratta di un po' di sabore e che si tratta di un po' di sabore.